Profitto anch'io per fare Buon Natale, buone feste a tutti. Come mia consuetudine di solito le feste sono belle per noi, però io penso sempre alla gente che soffre. Ieri noi siamo stati presenti nell'ospedale, ringrazio ancora il primario che ci ha invitato a rendere omaggio a questi bambini a cui abbiamo donato una maglia con la numero 10, perché riteniamo che la numero 10 sia il giocatore di più estro, di più fantasia, e quindi abbiamo regalato al primario la numero 10, perché lui è un fenomeno e deve fare uscire questi bimbi. Come ieri sera ci siamo regati a Paolo VI, dove abbiamo regalato un piccolo gesto di giocattolino a questi bimbi che ne hanno bisogno. La mia filosofia di vita è stata e sarà sempre questa e quindi io in questo momento come Taranto Calcio auguro il meglio a tutte le famiglie tarantine e di tutta l'Italia, di tutta l'Europa, di tutto il mondo, perché siano delle feste belle per tutti.